Benvenuti nel mondo degli orologi, Arman Nicolè. Arman Nicolè è un marchio svizzero di orologi di lusso, fondato nel 1902 a Tramelan, nella regione di Berna, da Arman Nicolè. Restato in mano alla famiglia Nicol fino agli anni settanta, il marchio è stato poi venduto ad una società italiana. Nel 2000, Rolando Braga ha acquisito l'azienda, dando vita ad una nuova rinascita per il marchio Arman Nicolè. Oggi, l'azienda sede a Tramelan e produce orologi di alta gamma, utilizzando tecniche artigianali tradizionali svizzere. Ogni orologio Arman Nicolè richiede anni di ricerca e sviluppo, oltre ad un'attenzione maniacale per ogni dettaglio, dalla selezione dei materiali alla finitura delle parti. Solo così è possibile creare orologi di alta qualità che possono durare per generazioni. Il marchio offre una vasta gamma di modelli per soddisfare ogni esigenza del cliente. Tra i modelli proposti ci sono il J09 Day-end Date, un orologio automatico dal design raffinato, caratterizzato da una cassa in acciaio inossidabile, il S05 Chronograph, un orologio meccanico dotato di una funzione cronografo, e L-HM7 Mondial GMT, con un quadrante con indici luminescenti che ospita un movimento automatico al quarzo con funzione GMT. Le caratteristiche che rendono unico ogni orologio Arman Nicolè sono la precisione, grazie a un sistema di ingranaggi e bilancieri perfettamente calibrati. La bellezza con i quadranti che sono veri e propri capolavori di design, dalle linee eleganti e sobrie ma al tempo stesso ricche di dettagli. E la qualità dei materiali, infatti, ogni orologio Arman Nicolè è stato realizzato con materiali di altissima qualità, per garantire la massima durata nel tempo.